Eccoci all'interno dell'H24, vedete l'ingresso, sala ristorante, c'è un evento in corso, sangue, underwater, c'è un evento in un'altra persona, una kakara che conosco la prima è quella lettera, che è lei del credito della Marlyle, andrei a terra, panmina di un'altra maniera, Grazie. Ecco qui siamo all'esterno, vedete un bellissimo luogo all'aperto, in stile motori, vediamo il grande parcheggio, ci si svolgono anche eventi, raduni, show, ecco qua le BMW di oggi, moto raduno. Autoraduno, scusate. Ecco l'H24 quindi sulla via di Burtina a Guidonia Montecelo.